Grande successo per la cerimonia alle fonti awards diritto penale, svoltasi lo scorso venerdì 25 maggio 2018 a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, con il patrocinio di Commissione Europea. La serata dedicata interamente ai penalisti, i principi del foro. Tra i momenti clou, la standing ovation per Angelo Giarda, dello studio legale Giarda, che nella commozione generale ha ricevuto il premio alla carriera. Avvocato dell'anno, anche qui premio ad personam, boutique di eccellenza, diritto penale commerciale, il premio viene assegnato a Giovanni Paolo Accinni, studio legale Giovanni Paolo Accinni, e associati per l'elevata preparazione e la completezza e concretezza dell'attività di consulenza. nell'ambito del diritto penale commerciale, per il supporto ad una clientela sia nazionale che internazionale, unito ad una rilevante attività di docenza. Avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto penale commerciale. Siamo in compagnia dell'avvocato Giovanni Paolo Accinni, dello studio Accinni. Buonasera avvocato. Buonasera a voi. Lei oggi ha ricevuto il riconoscimento personale alle fonti awards nel campo del diritto penale commerciale. Le chiedo anzitutto di commentare questa vittoria. Secondo il memorabile detto di Filippo Ottonieri, nelle operette morali, nell'arte sua è meglio ricevere applausi che fischiate. I premi sono come un sorriso, donano lievità. E sono particolarmente contento di avere potuto mantenere questa sorta di piccolo primato, nel senso che l'anno scorso, sempre per il diritto penale commerciale, il premio è arrivato come studio. Va da sé che non c'è singolo giocatore che possa vincere se la squadra non lo supporta. Quindi un particolare ringraziamento e riconoscimento alla squadra. Bene, il tema del CEO Summit di questa sera riguarda la figura dell'avvocato penalista ieri e oggi, ovvero dagli anni di Tangentopoli fino alla consulenza. Le chiedo come si sono evoluti, a suo avviso, la figura e l'approccio dell'avvocato penalista rispetto a quegli anni, all'inizio degli anni 90. Io credo che Tangentopoli abbia originato e negli anni a seguire si sia accresciuto il rischio che gli avvocati e quindi anche i penalisti perdano la propria mission, che è quella di mediatore sociale. Intendo significare che si è sempre più passati dall'avvocato come tecnico esperto e anche uomo di cultura a più bravo nell'immagine, nell'apparire, nel gestire relazioni. Le chiedo infine quali progetti avete in serbo per i prossimi mesi. L'anno scorso abbiamo saputo anticipare alcune importanti sfide, non solo in materia di NPL, ma oggi è il primo giorno in cui entra in vigore il GDPR, è una rivoluzione sconvolgente che devo dire che sta dando i primi effetti. Oggi è stata una giornata campale per le richieste che stanno arrivando, ma oltre che su questi temi, anche su quelli del restructuring, del turnaround, e inoltre seguitiamo nelle sfide giudiziarie, prime fra tutte quelle dei processi in materia ambientale, per le quali, convinti che siano anche battaglie di civiltà, non cessiamo di nutrirci di quello che Italo Calvino definiva il midollo del leone. Grazie a tutti.